Un protocollo d'intesa per rilanciare il lavoro e difendere la mano d'opera locale è quanto chiederanno all'amministrazione comunale di Gela, le federazioni sindacali del settore di ILE per tentare di arginare la crisi e dare respiro ai lavoratori ed ILE tra le fasce più deboli della popolazione. La grave crisi economica di questi anni ha avuto pesanti ricadute su famiglie, lavoratori ed ILE e imprese costretti a vivere sospesi tra l'angoscia della ripresa del comparto e la bancarotta familiare. La pioggia di milioni di euro che cadrà sulla città di Gela in merito al patto per la Sicilia rilancerà il tema delle opere pubbliche e del patrimonio edilizio ridotte allo stremo negli ultimi anni con il dimezzamento di appalti, lavoratori e imprese. Per Daltan di Dio della Feneal Will, Francesco Iudici della Fielca Cisle e Francesco Cosca della Fillea Cigelle, gli investimenti pubblici rappresentano attualmente il soccorso tradizionale da portare al capezzale dell'ammalato per rianimarlo, considerato che gli interventi privati non sono sufficienti. Il mercato immobiliare è fermo, la domanda di natura non abitativa è debolissima, anzi inesistente. Il centro storico è in vendita. A riaccendere le polveri in questa città sono gli interventi previsti dal patto per la Sicilia che potrebbero rappresentare un'occasione favorevole per le tantissime professionalità locali che meritano una tutela particolare perché diversamente le urla lanciate rischiano di trasformarsi in assoli durante una notte d'estate. Cosa si può fare? Evitare meccanismi incomprensibili e appiccicosi redigendo un protocollo semplice nei contenuti e non impenetrabile come la burocrazia che preveda per le aziende aggiudicatari dei lavori la possibilità di attingere dall'immenso patrimonio professionale edile che offre la città di Gela. Il protocollo punterà a sviluppare politiche di lavoro e sviluppo economico, politiche ed erredditi e di contrasto alla povertà per mitigare le conseguenze discendenti dalla situazione socio-economica. Le federazioni sindacali del settore edile tendono a determinare le condizioni necessarie per avviare un processo di ripresa economica e occupazionale in questa città falcidiata da emigrazione continua e disoccupazione fuori dalla portata della nostra ragione. Scrivere a quattro mani il contenuto del protocollo significerà avviare un processo di modernizzazione di tutto il tessuto socio-economico a rendere il comune meno insondabile e aperto ai cittadini. Le federazioni sindacali del settore edile inoltre danno al sindaco del comune di Gela formale richiesta di convocazione perché, si legge in una nota, vogliamo rivedere la luce in fondo al tunnel. Se la convocazione non avverrà in tempi brevi si annunciano azioni di protesta.